Beppe, mi ascolti? Sì, avanti, buongiorno! Ciao Beppe, sono Michele, ci siamo visti in sala da un nostro amico, non so se sei presente. Sì, ciao Michele, buongiorno, ma partecipi al contest? No, ho solo acceso e ho sentito che parlavi. Sì, Roger, ti auguro buona giornata e buona domenica, Roger! Buona domenica anche a te, dai, ti lascio fare il tuo contest, ciao Beppe! Sì, ti ringrazio, ciao, grazie ancora!